Patrick è tutto sporco, fortuna che questo kit 7 in 1 riesca a intervenire in qualsiasi apparecchio elettronico migliorandone la sua performance. Per un migliore effetto sulle tastiere è incluso un attrezzo che permette di rimuovere i tasti in sicurezza. Anche per i telefoni offre un panno e uno spray di acqua distillata per andare a pulire con precisione anche lo schermo. E per le cuffiette? Bene, se non vi piace lavarvi le orecchie il rimedio si trova all'interno del kit, offrendo un attrezzo in grado di pulire le cavità e rimuovere lo sporco.